buona giornata amici e ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 18 marzo 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi un santo che proviene dal quarto secolo ovviamente dopo cristo ovviamente ebbene è San Cirillo di Gerusalemme eccolo qua nella nostra grafica San Cirillo fu nominato vescovo successore del vescovo massimo nella cattedra di Gerusalemme e fu costretto a fuggire dalla città per sottrarsi alla congiura degli ariani quelli che erano degli eretici al tempo fu un grande difensore della fede contrastò i disegni dell'imperatore Giuliano l'apostata e fu testimone di un grande miracolo con l'apparizione di una grande croce che dal calvario si estendeva fino al monte Oliveto così appunto dicono le cronache tanto splendente da contrastare da vincere la luce del sole ebbene quei tempi accadevano anche queste cose questo per quanto riguarda i santi del giorno ora vediamo anche quali sono le condizioni del tempo e vediamo che il tempo rimane dolce rimane solleggiato dolce non tanto anzi mi devo correggere perché continua a essere fresco dopo le temperature veramente gradevoli dei giorni scorsi comunque abbiamo il sole su tutta la regione tempo stabile solleggiato con qualche innocua innocua velatura di passaggio le temperature sono stazionarie le minime sono piuttosto basse 3 gradi le massime 13 gradi e fa freddo al mattino fa freddo al mattino poi quando è verso le 11 le 12 l'ambiente si riscalda i venti sulle coste spirano da sud est nell'entroterra da est nord est il mare leggermente mosso dopo le previsioni del tempo vediamo quali sono le notizie di oggi sulla pagina di fano e sua pagina di fano troviamo una notizia che ci viene da fossombrone per quanto riguarda uno spiacevole episodio che si è verificato durante una partita di calcio rissa allo stadio prende un pugno in faccia difendeva il figlio dagli insulti razzisti scontri durante una partita di calcio a isola di fano la società ospite accusa i parenti di un avversario ebbene i contendenti erano isola di fano e pian di rose sono venuti alla luce episodi veramente squalificanti stanco di sentire insulti razzisti dai tifosi avversari albanesi il padre di un giovane di origine africana chiede di fare basta e viene colpito con un pugno in faccia è successo sabato scorso durante una partita di campionato valido per il girone a di seconda categoria un girone non sempre tranquillo ebbene era un derby di salvezza nelle file di pian di rose gioca un attaccante senegalese si chiama cristo fermendi a 26 anni nelle stagioni precedenti era stato tesserato anche nella polisportiva isola di fano una frazione del comune di fossombrone sugli spalti non c'era tanto pubblico ma i tifosi e che stanno su lati opposti hanno cominciato a imbeccarsi tra di loro ebbene alla fine di questo squalificante episodio poi ovviamente si dice ma non è razzismo anche se non è razzismo è un aspetto dello sport molto deteriore che deve essere vinto che deve essere soppresso il giudice sportivo provinciale della federazione italiana gioco calcio ha punito entrambe le società sia isola di fano che pian di rose con 200 euro di multa ovviamente l'importo non è trascendentale il giudice ha però inflitto tre giornate di squalifica al giocatore clevi deggia espulso dall'arbitro si legge nel referto perché in seguito agli scontri tra due tifoserie percorreva tutto il campo di gioco per andare a scavalcare il recinto ed andare ad alimentare la rissa che si era scatenata squalificati per due turni anche mendi e un suo compagno di squadra omar el keir ebbene questo è quanto riportano le cronache di questo episodio ma abbiamo anche dei risvolti sempre sulla stessa pagina che è stata tutta dedicata a questo episodio increscioso i ragazzi sono chiariti ci sono chiariti a vicenda la vicenda dovrebbe essere chiusa il presidente della squadra di casa esclude frasi a sfondo discriminatorio insomma questa però è una scusa che lascia il tempo che trova perché poi l'episodio si è verificato ugualmente razzismo o non razzismo ricostruzione distorta così certi episodi si ripetano il pian di rose contro la squalifica di christoph questo è quanto riporta il giornale questa mattina passiamo ad un altro argomento e vediamo che per quanto riguarda il comune di fanno si è avuto un impennato di multe un vero e proprio record nel 2022 l'ammontare riscosso è stato l'ammontare elevato diciamo meglio più che riscosso che vuoi qualcuno non paga comunque 4 milioni di euro veramente un vero e proprio record dagli autovelox di cucurano e metauriglia ne sono arrivati 1,6 in soli sette mesi di attività una miniera d'oro per l'amministrazione comunale per le casse pubbliche gli autovelox posizionati a metauriglia e cucurano giusto un anno fa ma operativi solo da giugno del 2022 quindi operativi solo per metà anno ebbene ancora molti i automobilisti non si rendono conto che superare i 50 in quel rettilineo di metauriglia oppure passare a forte velocità nel centro di cucurano è assai pericoloso ancora cucurano sono verificati degli incidenti molto molto gravi ancora a metauriglia la situazione non è del tutto sicura nonostante che ci siano i cartelli che avvertono che gli autovelox sono in attività e nonostante le multe che vengono fatte sono anche molto più onerose quelle che vengono fatte di notte quindi mi raccomando attenzione rispettiamo i segnali e giriamo giriamo la pagina e passiamo a cartoceto a cartoceto viene considerata con grande soddisfazione la legge la proposta di legge regionale sull'oleo turismo ebbene si accosta la qualità dell'olio di cartoceto che è un olio dop lo ricordiamo con gli effetti che l'inogastronomia suscita nel settore turismo sì perché l'inogastronomia in modo particolare i prodotti di qualità come in questo caso l'olio d'oliva attraggono turisti i quali poi oltre a mangiare bene a degustare appunto questi prodotti possono visitare il territorio acquistare nei negozi magari anche passare le vacanze in queste belle colline produzione di olio e turismo la regione raccoglie le idee confronto a cartoceto dell'assessore Antonini l'assessore regionale sulla nuova proposta di legge e qui ovviamente al centro vediamo il sindaco Enrico Rossi danneggia auto identificato con la telecamera decisivo il rapporto di video sorveglianza per l'esito delle indagini a Fossombrone un altro colpo consolante per la pubblica opinione messo a segno dalle forze dell'ordine di Fossombrone finalmente coloro che fanno questi danni vengono identificati un ragazzo ha danneggiato un'auto ed è stato costretto giocoforza a riparare di tasca propria il danno provocato finalmente un esito consolante almeno per chi ha subito i danni e qua un altro episodio di cronaca accaduto a Mondolfo accoltellò la sorella malata patteggia a due anni di carcere davanti al GUP è arrivato un 74enne di Marotta che dopo l'aggressione ingerì dei barbiturici per farla finita aveva accoltellato la sorella una sorella anziana 79 anni poi aveva ingoiato barbiturici per cercare la morte senza però trovarla ieri è stato definito il patteggiamento per appunto questo uomo originario delle Puglie residente a Marotta che nel febbraio 2020 aveva aggredito la sorella convivente l'uomo al termine di un litigio nell'abitazione condivisa con la sorella in zona marina alta a Marotta aveva ferrato un coltello da cucina sferrando sferrando un fendente alla schiena della sorella la quale però aveva avuto la forza di uscire di casa e chiedere aiuto ebbene di fronte al giudice l'uomo ha patteggiato a due anni poi la pena è stata sospesa davanti al giudice monocratico del tribunale di Pesaro è stata sospesa la pena a Senigallia ebbene a Senigallia c'è un articolo che come io dico è difficile leggere perché c'è un gruppo in gola alla fine e sono delle bellissime parole quelle usate da Sabrina Marinelli e che ha firmato appunto questo articolo sapete domani è il 18 e il domani è il 19 scusate il 19 marzo il 19 marzo è la festa del papà una festa commerciale la possiamo così intendere ma per chi la sente è anche una festa dal punto di vista ideale molto molto sentita specialmente per quei papà che non ci sono più oppure per quei figli che non ci sono più e in questo caso abbiamo una frase veramente significativa cari papà abbracciate i vostri figli chi l'ha detto l'ha detto Tiziano Lucconi che era il papà di Mattia quel bambino che è morto durante l'alluvione di Senigallia dedicate un pensiero al mio Mattia ha dichiarato Tiziano il dolore di questo papà sono stati mesi di inferno non devono essere ripetuti gli errori del passato vorrei chiedere a tutti i papà di abbracciare i propri bimbi domani e dedicare quell'abbraccio ai padri e i figli che come me e Mattia non potranno più farlo e l'appello di Tiziano Lucconi alla vigilia della festa del papà per la prima volta senza il suo Mattia morto a soli otto anni nell'alluvione del 15 settembre scorso e sono stati mesi di inferno ebbene una partecipazione a questo grande grande dolore. Giriamo anche pagina per vedere quello che accade in Ancona per quanto riguarda il processo della discoteca di Corinaldo. La procura richiama fede se sfera strage in discoteca i rapper in aula citati come testimoni sono attesi venerdì prossimo i sopravvissuti dopo Corinaldo dicono è cambiato tutto fede se sfera venerdì in tribunale per la lanterna azzurra i due rapper sono stati citati nuovamente dalla procura come testimoni Ieri intanto i racconti dei sopravvissuti della strage, due ragazzi finiti in terapia intensiva di quella notte i frammenti della memoria sono molto vaghi ma la consapevolezza è una sola che dopo Corinaldo niente è stato più come prima un episodio che ha cambiato radicalmente la vita di tutti coloro che sono stati consapevoli di quanto è avvenuto e erano lì presenti nel momento in cui si è scatenata la grande confusione che ha determinato poi la morte di sei ragazzi Allora a questo punto guardiamo la pagina di Pesaro e diamo un'occhiata a quello che è in apertura un resoconto dell'attività commerciale in modo particolare nel centro storico Il corso chiude i battenti, moria di negozi e di attività, costi di gestione lievitati Si parla di serrande abbassate, si parla di caro affitti e si parla delle vie commerciali più interessanti di Pesaro che anche loro non si sono sottratte alla mannaia della crisi Ebbene che cosa è avvenuto? È avvenuto che abbassate le saracenesche di almeno quattro botteghe storiche una sola via si salva Vediamo anche per quanto riguarda gli affitti gli affitti che restano molto alti nessun ribasso significativo Vediamo qualche esempio su via Branca e piazzale Lazzarini si affitta fino a 50 euro al metro quadro in alcuni casi anche oltre così uno spazio di 100 metri quadri non si affitta per meno di 5 milioni di euro stesso range considerato al top via da piazza del popolo fino a via Barignani parte alta del corso E poi l'asse che soffre di più è invece via San Francesco quella che dall'ex stazione delle Corriere arriva in piazza del popolo per mancanza di attività appetibili o nuove ma soprattutto per il locale rimasto vuoto da tempo dell'ex banca Unicredit e dalla parte opposta del porticato anche di un'altra banca che ha recentemente chiuso i battenti C'è poi quel range di negozi piccoli intorno ai 30-35 metri quadri che vengono affittati anche dai 1.900 a 2.000 euro fino ad un massimo di 3.000 euro Infine lungo il corso per esempio uno spazio oggi sfitto di 40 metri quadri va intorno ai 1.600 euro mensili E quanto devono incassare i negozianti per sostenere questi affitti? Poi ci sono tutte le altre spese, le spese delle utenze e ovviamente le spese per acquistare le merci e qualche euro in più per il reddito per il loro lavoro Ebbè non è molto facile la vita dei negozianti in questo periodo Ed ora diamo un'occhiata anche al fatto all'assassino di Michael Abbiate pazienza L'assassino che ha funestato la cronaca di Pesaro in questi ultimi tempi Si parla dell'assassino compiuto da Alessandrini e Michael Alessandrini La vittima è Pierpaolo Panzieri Alessandrini è stato interrogato dal giudice Un lungo interrogatorio per quattro ore L'omicidio è stato raccontato nei dettagli Ebbene Alessandrini non si è sottratto ad alcune domande Ma ha manifestato quello che è un po' il modo di ragionare Abbastanza, abbastanza disastrato appunto dell'uomo Nessun movente passionale E dovrebbero essere state le voci divine a ispirare l'omicidio Le voci di Yahweh Lui era un lettore della Bibbia Si era così impressionato per quanto riguarda quanto aveva letto E sembra che una voce gli avesse ordinato Di uccidere il povero Pierpaolo Panzieri Farneticazioni a sfondo religioso dietro il delitto Depositata la richiesta di perizia psichiatrica Questo è un po' quanto è avvenuto Ne abbiamo parlato diffusamente quasi tutti i giorni di questa vicenda Droghe micidiali destinate ai rave party Arrestato con oltre duetti di stupefacenti Si tratta di un 27enne originario della Campania Ma da tempo residente a Pesaro Aveva con sé cocaina, ecstasy, ascis E una scorta di chetamina Un 27enne tenta la fuga ma finisce ai domiciliari Il giovane è considerato uno dei frequentatori dei raduni fuori legge Dove piazza le varie sostanze Un po' quello che forniva i rave party Ebbene l'uomo è stato finalmente trovato E individuato e arrestato Dagli uomini della questura di Pesaro Però insomma è stato posto ai domiciliari E questo è quanto ha disposto il giudice Ed ora diamo un'occhiata al resto del Carlino Dove si parla della reazione dei residenti di Carrara Per quanto riguarda le nuove decisioni di Terna Per l'Adriatic Link Un elettrodotto sotterraneo Che verrà però raddoppiato a partire dal 2028 A partire dal 2024 fino al 2028 Si parla di una cifra intorno ai 9 milioni di euro Che dovrebbe servire all'interramento della linea elettrica Ebbene che cosa accade? Accade che nonostante un primo elettrodotto Terna ha deciso di realizzare anche un secondo elettrodotto Che potrebbe così percorrere un itinerario diverso Rispetto a quello del primo Tutto questo senza ovviamente avere il coordinamento Avere una interazione preventiva Con i residenti di Carrara I quali si sono arrabbiati Adriatic Link raddoppia Carrara alza le barricate Chiesto il Comune in confronto con i tecnici di Terna Per spiegare alla comunità i nuovi investimenti Chiederemo conto di questo intervento E a favore degli residenti di Carrara Si è piazzato anche il partito Fratelli d'Italia Che ovviamente considera giuste le rimostranze dei residenti E poi abbiamo un attacco di Ella Lega Al bilancio del Comune di Fano Se la variante Gimarra va avanti Il Comune rischia dissesto Ieri hanno tenuto una conferenza stampa Il gruppo dirigente della Lega I quali hanno contestato le decisioni Dell'amministrazione comunale contenute Nel bilancio preventivo del 2023 Approvato sempre a maggioranza Nell'ultima seduta del Consiglio Comunale E ovviamente si dice che ci sono Siccome poi il bilancio è un provvedimento Soprattutto di carattere politico Si dice che molte scelte sono sbagliate In modo particolare la continuazione A perseguire la variante di Gimarra Dopo quanto è accaduto Soprattutto con la proposta di realizzare Il casellino a Fenile Una variante che resterebbe inutile E che indebiterebbe l'amministrazione comunale Oltre al consentito Così appunto dicono i consiglieri della Lega Al via bando crowdfunding Per arte, salute e ambiente Una nuova iniziativa della Fondazione Carifano Che dopo il successo della prima iniziativa Emette un secondo bando Un secondo bando con una cifra a disposizione Di 100 mila euro Una cifra che correda tutto quanto Poi le associazioni che presentando i loro progetti Saranno riuscite a ottenere Con le loro iniziative Con la loro attività Quindi tanti soldi le associazioni riescono a ottenere Tanti soldi metterà la Fondazione E quindi il budget aumenterà Belle queste iniziative che sostengono il volontariato Ma danno anche tante possibilità Alle famiglie fragili e ai più deboli Di avere un futuro migliore Taglio ai fondi per le manifestazioni Marta Luggeri La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Lancia l'allarme La Commissione regionale ha tagliato Molti contributi Tra cui anche quelli che riguardano il Carnevale di Fano Ma anche il Coro Polifonico Malatestiano Che quest'anno celebra i 50 anni di attività Avevano fatto richiesta per celebrare In modo significativo Questo importante anniversario Però la Commissione ha stralciato queste domande E quindi Fano rimane a secco Negoziante insospettabile Arrestato con l'Ascis Aveva in casa 1,3 kg di sostanza Il suo telefonino è stato sequestrato E sarà passato al setaccio Per individuare eventuali collegamenti E non sono esclusi degli sviluppi E poi ancora A Urbino Eccolo qua La pagina Rosati Green e futuro Ancora al palo Il consigliere di opposizione Mario Rosati Attacca l'amministrazione comunale Per la mancanza di progettualità E poi ancora a fondo pagina Mazzaferro Strada più larga e sicura Per la scuola elementare Il sindaco preannuncia La creazione anche di una nuova piazza E di una nuova sala civica Ed ora diamo un'occhiata Anche alle pagine dello sport A partire da quelle pubblicate Dal resto del Carlino E vediamo che la prossima partita Per la Vis Pesaro È una partita veramente importante Vis affermo Cercansi prestazione glaciale Proprio un termine Che dimostra come Bisogna veramente vincere Perché altrimenti È brutta È brutta Oggi alle 16.30 Derby da brividi Con Vista Baratro Vedete le parole Come sono veramente forti Biancorossi chiamati Ed una gara perfetta E cinica Con un'avversaria Spigolosa E con tanti ex Ebbene La Fermana È una di quelle squadre Rotonde Ma con gli spigoli Che se ci vai a sbattere Buchi la gomma E deragli E pensate Che confronto Decisivo Deve sostenere La Vis Pesaro Oggi Che naviga In brutte acque E deve per forza Risalire la corrente Con una squadra Veramente ostica Società incompetente La colpa è vostra Un comunicato Della Vis Nei confronti Dei tifosi Scatena Le ire Di quest'ultimi Vergognatevi Così non si gestisce Nemmeno Un club Di promozione È stato detto E c'è veramente Maretta Tra la tifoseria E la dirigenza Della squadra Ma anche con i giocatori Che non riescono A così A ottenere Un risultato Utile Ebbene Per quanto riguarda Il Fano Che naviga In acque tranquille Almeno per il momento Arriva una grossa Tegola Perde Capezzani Campionato Molto probabilmente Finito Per il trequartista Dopo il risponso Sull'infortunio Ebbene Non sono affatto Positive Le risposte cliniche Pervenute Dai medici Al centrocampista Di Macerata Il giocatore Ha riportato Un distacco All'intersezione Dell'aduttore Infortunio Che richiede Secondo le prime Impressioni Un recupero Piuttosto lungo Ebbene Perdere Perdere Capezzani E perdere Una pedina Importante Per il Granata Speriamo Che riescano A reagire Lo stesso Parliamo Anche Di basket WL Stasera Scocca L'ora Di Austin Day Alle 20.30 I biancorossi Sfidano La Germani Brescia Provare A portare A Pesaro Ai playoff È una grande Motivazione Per me Ha dichiarato Il giocatore Sorridente Disponibile Ecco come Si è presentato Dai A Pesaro E lo vediamo Qui In queste Fotografie Ancora Fossombrone E Urbino Per i campionati Minori Servono punti Di riscatto Eccellenza Il turno Atletico Gallo E Chiesa Nuova Senza Torelli Specificato Mentre Santorso Una gara In salita Promozione Fanesi Con Portuali Ancona Valfoglia Decimato Invece A San Costanzo Questo Per quanto riguarda Lo sport E vediamo Anche Qualche notizia Che riguarda Vediamo Se la troviamo Non la troviamo Allora passiamo subito Al Corriere Adriatico Per vedere Come Si parli Della Vis Eccolo qua La Vis Ho già fermo E senza alternative Così si fa male Il male Così si fa Il male Della Vis E siamo In conclusione L'ultima Pagina La vogliamo Dedicare Eccola qua La vogliamo Non la vedo Eccola qua Lo vogliamo Dedicare sempre Al basket Eccola qua Dai è pronto A dare tutto Austin Già mi chiamano Il re Di Pesaro Queste un po' Sono le premesse Per la giornata Per il weekend Sportivo A questo punto Finiamo la nostra Rassegna stampa Vi do appuntamento A lunedì prossimo Alle ore 7 Intanto vi auguro Un buon weekend Grazie per l'ascolto A risentirci